Il 29 luglio Benito Mussolini a predappio sarà il presidente del Consiglio più giovane e anche il presidente del Consiglio della storia d'Italia a durare di più in carica per 21 anni. È il 29 luglio che viene ucciso nel 1900 dall'anarchico Gaetano Bresci il re d'Italia Umberto I. È il 29 luglio che muore Agostino De Pretis in assoluto il presidente del Consiglio che è stato presidente più volte, otto volte, solo lui ci è riuscito nella storia d'Italia ed è il re del trasformismo.